E' lunedì mattina, e ho deciso. Non importa se il tempo a disposizione si riduce improvvisamente, se si deve lavorare con efficienza, pieno carico, o se non è certi di avere le persone giuste per l'intervento. Non importa se anche sotto pressione si deve lavorare con precisione, se le normative cambiano continuamente, o semplicemente se c'è il pericolo di rimanere indietro. Non importa cosa succederà, sfida accettata. Con macchine collegate in rete e soluzioni che ci aiutano nel lavoro quotidiano. Con una postazione di lavoro comoda per una maggiore produttività. Con una guida e un comando intuitivi per ridurre lo sforzo. Con tecnologie efficienti che risparmiano le nostre risorse. E un partner affidabile, sempre presente. Una bella sensazione per tutto il team. Sfida accettata con i trattori Klaas. Quattro Fix Ahora